Salve ragazzi, sono Mario Rubino e mi occupo di nutrizione. In questo video vi darò alcuni consigli su come effettuare una ricarica di carboidrati prima di una gara o di un evento sportivo. La ricarica di carboidrati prima di una gara può aiutare a garantire che il corpo abbia sufficienti scorte di energia per sostenere lo sforzo fisico richiesto durante la competizione. Questa è la strategia che utilizzo e che ha riscontrato molto successo per gare principalmente di crossfit, surf, triathlon, sparta race, calcio, nuoto e soprattutto anche paddling. Si può adattare in sport di endurance come bici, corsa e tutti gli sport anche misti di squadra utilizzata sia per gare importanti di un certo livello ma anche per quelle amatoriali del weekend o del campionato della chiesa vicino dove è stato con grigliata finale. Una cosa molto importante per impostare la ricarica di carboidrati un paio di giorni prima della gara in modo intelligente è quella di evitare di affaticare il sistema digestivo quando verranno assunti ingenti quantità di carboidrati. Quindi prima di tutto scegliamo alimenti ricchi di carboidrati che mangiamo spesso e che tolleriamo meglio prevalentemente a basso contenuto di fibra. Evitare alimenti grassi e difficili da digerire che possono rallentare la digestione e aumentare il rischio di disturbi gastrointestinali e transito più lento. Mantenere un apporto proteico da cibi solidi non troppo elevato sempre per non rallentare la digestione di una grande quantità di carboidrati assunti nella giornata di carico. Bere molta acqua. L'acqua aiuta a idratare il corpo e a garantire una buona digestione. Così come utilizzare il sale perché il sodio aumenta sia la velocità di assorbimento intestinale del glucosio che il suo stoccaggio intramuscolare. Come premessa però ti dico che applicare questa strategia così alla cazzo senza aver lavorato nel tempo sulla propria alimentazione in funzione dell'allenamento e preparazione alla gara non ti porterà grandi risultati. Anche perché sarai impreparato a gestirla e potresti anzi peggiorare le cose. Quindi usa la testa e prendila come spunto di riflessione se non hai mai curato la tua nutrizione seguendo determinati schemi e macros in funzione dell'allenamento. Ok dopo questa premessa passiamo all'azione. Foglie e penna o istantanea schermo. Solo ad day. Due giorni prima dell'evento. È il giorno di deplezione e scarico. Faremo un allenamento metabolico a media intensità, un'oretta circa, per permettere una forte deplezione di glicogeno epatico e muscolare. Ideale sono circuiti misti con corsa, barpis, bici, nuoto, vogatore, alternando gli esercizi con recuperi brevi ma che non siano troppo neurali, cioè che non stressino troppo il sistema nervoso e le articolazioni. Quindi bassi carichi e ripetizioni non a cedimento completo ma con bruciore sopportabile. I macros da tenere in questa giornata sono questi. Grassi tra 0,5 e 1 per kg di peso corporeo. Carboidrati tra 2 e 3 grammi per kg di peso corporeo. Proteine tra 1,6 e 2,2 grammi per kg di peso corporeo. Acqua minerale da 3 a 4 litri circa e sale da 2 a 3 grammi circa. Spostatevi nel range più alto della quantità di ogni macronutriente se vi trovate in una condizione sotto o intorno al 10-12% di massa grassa per l'uomo e 15-18% per la donna. All'opposto nel range più basso se siete sopra o attorno al 15% per l'uomo e 20-22% per la donna. Utilizzate fonti di carboidrati che digerite bene e in questa giornata prediligete più frutta e pochi amidi. Mantenetevi attivi solo camminando o facendo movimento a bassa intensità. Upload day. Un giorno prima dell'evento. È il giorno di stoccaggio e di carico. Questo sarà il giorno di riposo, prima dell'evento, con la ricarica glucidica per permettere il maggiore ripristino e conseguente conservazione delle scorte di glicogeno intramuscolare. I macros sono questi. Grassi sempre da 0,5 a 1 grammo per kg di peso corporeo. Carboidrati tra 7 e 8 grammi per kg di peso corporeo. Proteine circa 1,6 grammi per kg di peso corporeo. Acqua minerale un litro circa ogni 10 kg del vostro peso corporeo. Sale 1 grammo sempre ogni 10 kg del vostro peso corporeo. Spostatevi sempre nel range più alto della quantità di ogni macronutriente, nello stesso modo di come vi ho detto prima, se vi trovate in una condizione intorno al 10-12% di massa grassa per l'uomo e 15-18% per la donna. All'opposto, nel range più basso, se siete sopra o attorno al 15% per l'uomo e 20-22% per la donna. In questa giornata utilizzate fonte di carboidrati non integrali. Pochi zuccheri semplici, poca frutta e molti più amidi. E dilazionate i carboidrati durante tutta la giornata, mantenendo una quota più alta a pranzo o verso metà della giornata, per poi completarla verso sera. Non caricate tutto solo la sera. È inutile e può essere anche controproducente. Mantenetevi attivi solo camminando o facendo sempre movimento a bassa intensità e in particolar modo dopo i pasti. Il giorno dell'evento fate la vostra solita colazione senza utilizzare alimenti nuovi o strani e mantenendovi sempre sui macro della vostra colazione che fate nei giorni di allenamento. Non caricate troppo di carboidrati e predirigete fonti non integrali. Un sufficiente quantitativo proteico facilmente digeribile tra i 20 e i 40 grammi e i grassi teneteli molto bassi. Durante la gara è utile integrare con amminoacidi essenziali e sali minerali disciolti in acqua. Come carboidrati velocemente digeribili utilizzate ciclodestrine o maltodestrine, gallette salate, miele, marmellata e gel energetici. Per quanto riguarda le ciclodestrine, maltodestrine, gel o bevande energetiche, non sforate l'assunzione di 30 grammi l'ora di zuccheri netti se non siete abituati ad usarli. In caso gel usate non andate oltre i 60 grammi e magari testate le quantità in allenamento. Come integratori ergogenici ho avuto ottimi riscontri dall'utilizzo di caffeina e L-teanina se siete dei tipi ansiosi, tipo 200 mg di caffeina con 100 mg di L-teanina. Utile anche la citrullina per aumentare la vasodilatazione e l'acetilcarnitina e il fungo cordiceps per avere più focus e concentrazione e stare più a lungo, come si dice, sul pezzo, senza distrazioni e più autocontrollo. Bene figliozzi, il video termina qui. Fatemi sapere cosa ne pensate e se avete già fatto delle strategie di ricarica pre-gara e come vi siete trovati, se avete altri consigli o opinioni in merito. Come di consueto vi prego di iscrivervi al canale per essere sempre sul pezzo ed aiutarmi a sviluppare questo mio progetto di divulgazione pseudoscientifica. Seguitemi anche sui socials, in descrizione trovate tutti i miei contatti. Ci vediamo al prossimo CEC. Un abbrazzo di pura vita. Grazie.